Ciao ragazzi, come state? Io sono Mario, il coach, anche oggi ci ritroviamo per l'allenamento del giorno, quindi abbiamo tante calorie da bruciare e tanta forza da sviluppare, ma niente, ormai lo sai bene, puoi iniziare senza un ottimo riscaldamento. Oggi abbiamo Siam alla lavagna, quindi guarda bene i suoi movimenti, occhio a questo riscaldamento, preparati bene e ci vediamo alla forza. Ciao! Hai fatto bene questo riscaldamento? Sei stata attento ai movimenti, lo sai per qualsiasi domanda, mi scrivi sotto. La forza di oggi invece è sul bench press, quindi tanta forza sul pettorale. L'idea è di trovare un peso che ti consente di fare 6 ripetizioni e portarla fino a 9 per una volta. Dopodiché, se sei a conoscenza dei tuoi massimali e hai calcolato il tuo 1RM, provi ad esibirà altri 3 set al 90%. Se non sai di che cosa sto parlando, mi scrivi sotto, proverò ad aiutarti come migliorare la forza. Preparati bene, ci vediamo al workout. Ciao! Sviluppata bene questa forza? Hai fatto le giuste pause? Ok, sviluppiamo adesso questo workout finale su 3 esercizi e una scala a scendere 20, 16, 12, 8, 4. Su 3 quindi esercizi appunto abbiamo il dumbbell snatch, quindi manubri alle mani, calorie da bruciare, quindi prenditi una bike e degli addominali da sviluppare, il sit up. Attenzione sempre a Siam che ci farà vedere bene questi movimenti. Per qualsiasi domanda lo sai, mi scrivi sotto, ti dico che tutti questi esercizi li sto preparando nella sezione il coach ti spiega, anzi giù nelle descrizioni, valla a visitare perché ci sono già diversi tutorial che ti spiegheranno in tutta sicurezza come sviluppare bene questi esercizi, almeno quelli basi per adesso. Attenzione che Mario sta facendo un enorme lavoro con l'aiuto di Super Mario. Ok ragazzi, ancora una volta ti dico grazie di aver guardato questo video, Super Mario ti saluta, noi ci vediamo domani, ti ricordo che questo è un affondamento di ogni giorno da lunedì al venerdì e tu allenati bene! Ciao! 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 Grazie a tutti